Real Madrid o Manchester City? Questo è il dilemma del giovane Isco. Il fantasista del Malaga che è appetito da due dei club più ricchi al mondo. Lui intanto dice che non svelerà le sue intenzioni prima della finale degli europei under 21 prevista domani sera contro gli azzurrini di Davis Mangia. Dunque dicevamo, il Real in patria o il Manchester City per seguire il suo ultimo allenatore al Malaga, Manuel Pellegrini? Da tempo si diceva che proprio l'arrivo al posto di Roberto Mancini, del tecnico cileno, avrebbe attirato il giovane spagnolo in Inghilterra. Ma il diretto interessato ha giurato più volte di non aver mai parlato con Pellegrini da quando il suo ex allenatore ha lasciato la Spagna. I dubbi Isco potrebbe averli sul lato tecnico, visto che il Manchester City si è già assicurato il brasiliano Fernandinho dello Shakhtar Donetsk e il suo connazionale Jesús Navas dal Siviglia. Non che intendiamoci a Madrid la concorrenza sia inferiore.